Salve a tutti, benvenuti agli amici e agli imprenditori che parteciperanno al Digitex per day seconda edizione il 5 maggio. Io sono Giorgio Fabrucci e vi guiderò durante il mio intervento nel mondo dei trend social del 2022 e soprattutto come sfruttarli ai fini di un business internazionale. Durante il mio intervento vi parlerò dell'importanza del brand, del marchio, cioè di come oggi sia assolutamente un asset fondamentale avere uno standing, un posizionamento che sia dato in primo luogo da quello che è il vostro volto digitale, cioè il brand. Poi passato l'argomento dei brand parleremo in modo approfondito della pubblicità. Oggi non più solo investimenti sui motori di ricerca, ma anche investimenti e tanti sui social. Ma quali sono i social che crescono? Quali sono i social che diminuiscono dal punto di vista degli investimenti pubblicitari? Per quale fasce d'età è bene investire su un social piuttosto che un altro? Bene, tutto questo lo vedremo assieme. Un altro argomento importante è come scovare community che siano interessate già oggi ai vostri servizi, ai vostri prodotti. In un mondo altamente competitivo una strategia molto efficace è quella di trovare persone che hanno già passione per ciò che voi offrite e quindi ne possono parlare, possono discutere con voi e da qui riuscire a trovare dei luoghi per inserirsi all'estero senza magari sovrastrutture troppo onerose. Ed infine un trend fortissimo post-pandemico riguarda i social commerce, l'attività di social commerce, che altro non è che un'attività di proposta dei propri prodotti direttamente nei social network che proprio durante la pandemia sono diventati un luogo privilegiato per la raccolta delle informazioni preventive all'acquisto ma anche per l'acquisto stesso. Tutto questo alla seconda edizione di DigiTest per Day il 5 maggio. Vi saluto, vi ringrazio e spero di di darvi numerosi.